Sotto abbiamo un'altra girata della Francia che è Ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale Oggi la nuovissima collezione Match Attacks Euro 2024 Oggi ci andiamo ad aprire subito il Mega Multipack Perché oggi è il primo giorno e invece di portarvi lo starter Vi voglio portare il Multipack così ci apriamo più pacchetti Entriamo subito nel vivo di questa collezione Prima collezione Tops con i diritti ufficiali Euro 2024 Oggi che voi state vedendo il video è 14 Oggi sta uscendo questa collezione in edicola Ragazzi qualsiasi cosa fatemela sapere sotto nei commenti Questo Multipack l'ho pagato 10 euro così come lo starter Queste tutte le rarità ovviamente anche le firmate Quindi lo sapete su tutte io sono sempre alla ricerca degli autografi originali Ma non perdiamoci in chiacchiere Addentriamoci subito in questa nuovissima collezione Che ci accompagnerà fino all'Europeo 2024 In Germania dove l'Italia ovviamente parte da vincitrice in carica Ragazzi ho parlato anche troppo Andiamo a spacchettare Ed eccolo qui ragazzi Quattro bustine dal prezzo di 2,50 euro l'una per otto carte E in più diciamo in omaggio rispetto al prezzo base delle bustine singole Abbiamo le due Limited che andiamo a scoprire subito insieme Andiamo ad aprire il pacchetto delle Limited Vedo l'Olanda vediamo chi è vediamo chi è Abbiamo innanzitutto sempre il codicino per voi il QR code E sotto abbiamo Euromaster Teo Hernandez E sotto l'altro Euromaster che è Frankie De Jong Stupende grafiche Come sempre stupende Complimenti complimenti veramente a Match Attacks E ora partiamo con le bustine Bustine singole Dicevamo 2,50 euro l'una per otto carte all'interno Questa è la probabilità delle rarità che possono uscire Ovviamente tante parallele Tante carte rare Ovviamente noi siamo alla ricerca delle carte più rare Soprattutto ragazzi lo sapete Degli autografi che sono rarissimi Però ultimamente con Match Attacks siamo stati un po' sfortunati Quindi chissà che in questa versione europea ci potremmo rifare Partiamo da New Guard Sotto abbiamo una carta girata della Romania Provo a girarmene senza spoilerarmi nulla Golden Scorer Oilund Attenzione con la maglia della nazionale Sicuramente una delle prime apparizioni Sotto Capitano Stanciu della Romania Sotto una Crystal Quindi la prima parallela Crystal Vediamo chi è È Ipten della Svizzera Sotto abbiamo un'altra girata della Francia Che è la firmata di Legend Di Viera Bellissima questa Ovviamente autografo non originale in questo caso Ho stampato ma comunque veramente stupenda Stupenda davvero E poi sotto vediamo chi c'è C'è Radu C'è Sarabia E c'è il giocatore dell'Ungheria Per un attimo ci avevamo creduto Sull'autografo di Viera Ma è stampato Quindi noi andiamo ovviamente alla ricerca dell'originale Grafiche come sempre secondo me Pazzesche di questo tipo di collezione QR code per voi Abbiamo Jansa Abbiamo una carta girata Vediamo chi è Capitano Alaba Dell'Austria E sotto Abbiamo una carta girata Che è la Hero Di Sesco E sotto Vediamo un po' chi c'è Vediamo se è una parallela Vediamo chi è Uh Ultimate Gianluigi Donna Rumma Bellissima Quindi anche qui vediamo una parallela viola Attenzione Attenzione Un altro undici Ed è Ultimate Harry Kane Bellissimo Bellissimo Con questa olografia Con la scritta Tops Stupenda E sotto Vediamo un po' chi c'è Faes Duris E McTominay Ultime due bustine Dunque Per il momento Grafiche interessanti Queste Che abbiamo trovato Ovviamente ragazzi Voi sotto i commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Se pensate di fare questa collezione Se ora che l'avete vista in video Magari vi ho fatto Venire voglia Qualsiasi commento Ragazzi Ovviamente È sempre ben accetto Ovviamente Con educazione Jansen Mitrovic Della Serbia Una girata Della Danimarca Che è Kier Capitain Un'altra girata Del Belgio Vediamo chi è Vediamo chi è È la Hero Di Thibauti Courtois E sotto La Crystal Di chi è Di Di Lukic Saskia Lukic Poi abbiamo Marco Pasalic Armstrong Della Scozia E Saslai Dell'Ungheria Ultima Bustina Dunque Ragazzi Andiamo alla ricerca Almeno di un altro Giocatore italiano Abbassiamo le nostre Pretese Vediamo se funziona Per trovare Qualcosina Di goloso E Penso di Sì No Germany Avevo visto la Y Pensavo fosse Italy Andiamo a vedere Allora Partiamo Ovviamente Sempre dal QR Code Per voi Che potete Riscattare Ovviamente Graduitamente Sull'app Match Attacks Tra l'altro Fatemi sapere Se usate Quest'app Se ci giocate Se riuscite a riscattare I codici Visto che Comunque Ogni video Lo sapete Sempre Viene regalato Su questo canale Teo Hernandez Sotto Vediamo un po' Abbiamo una Dell'Olanda Girata Che è Vediamo un po' La Golden Score Goal Scorer Di Depay Attenzione Perché Vedo una Parallela Green E allora Andiamola A vedere subito Vediamo Chi è Vediamo Chi è Ragazzi Vediamo Chi è Sembra Proprio Lui Vediamo Chi è Ed è Guardiol Hero Esattamente E vediamo Questa anche Dell'Albania Che era Girata Che è La Hero Di Broia Quindi Andiamo a Vedere Sotto La Green Chi troviamo Abbiamo Agli Eti Dell'Albania Abbiamo Il giocatore Ceco Della Repubblica Ceca Quindi Gundogan Come Ultima Carta Recap Velocissimo Dunque Partendo Dalla Firmata Di Virat Ovviamente Stampata Purtroppo Poi abbiamo Tevernandez E De Young Che sono Le Due Limited Che ci sono Uscite La numero 10 E la numero 13 Da questo Megapack Sotto Abbiamo Le Parallele D Della Svizzera Questa Grafica Delle Ultimate Veramente Stupenda Tra l'altro Questa Ultimate Eppure Parallela Perché E Quella Viola Il Retro Anche Delle Parallele E Uguale Al Al Resto Queste Le Altre Due Parallele Che abbiamo Trovato Crystal E Green Insomma Ragazzi Questa Collezione Promette Davvero Bene Se Volete Vedere Altri Spacchettamenti Fatemelo Sapere Sotto Nei Commenti Insomma Comunque Io Lo Vedrò Anche In Base Ai Like E Alle Visualizzazioni Se Siete Curiosi Di Vedere Altro Di Questa Collezione Scrivetemelo Perché A me Veramente Comincia A fare Gola Poi Ci avviciniamo Piano Piano All'Europeo E Come Avvicinarci Meglio Che Una Collezione Che Ci avvicina Anche Per Conoscere I Vari Giocatori Collezionare Insieme Questa Collezione Che Per La Prima Volta È Fatta Da Tops E Per La Prima Volta Ai Diritti Ufficiali E Sì Ragazzi Se Ve lo State Chiedendo Prima Di Salutarvi La Collezione Conta 457 Carte Totali 316 Base 4 5 Per Pacchetto 316 Carte Parallele Olografiche Blue Crystal 63 Rainbow Foil 63 Olografiche Green 32 Olografiche Foil 32 Olografiche Parallele Purple 18 Legend Rainbow Foil Incisive 9 Carte Black Age Edition Peccato Che non Ce ne sia Uscita Nessuna Oggi Di Black Age Perché Sono Veramente Stupende 9 Chrome Pro Elite Shield Ovviamente Le Shield Non ci sono Uscite E via via Poi Tutte Le altre Rarità Insomma Le state Vedendo Senza Che Ve le Leggo Guardate L'autografo Originale Ragazzi Una Ogni 1900 Pacchetti Insomma Veramente Tanto Che dire Ragazzi Per me Il video di oggi Può finire qui Fatemi sapere Sotto i commenti Cosa ne pensate Di questa collezione E a me non resta Che augurarvi Buona giornata E speriamo di trovare qualcosa di più raro la prossima volta A kanale Sotto i Pensi Sotto i Pensi Sotto i Pensi